Senza censura, current. Cosa vuole proporre current alle web tv? All'interno di Senza censura, che è il nostro programma di informazione indipendente, proprio perché cerchiamo di dare spazio a tutte quelle notizie che non vengono date o vengono date in maniera molto superficiale sulle altre network, cerchiamo appunto di dare la possibilità di portare le local news italiane all'interno di Senza censura, che quindi avremo uno spazio dedicato alle notizie estere ma anche alle notizie italiane. Per fare questa sperimentazione, che appunto è già in onda e continueremo a portare avanti, abbiamo pensato di coinvolgere altratv.tv e tutte quelle web tv che sono state portate alla luce grazie al lavoro fatto dal network e quindi sperimentare insieme questo nuovo modo di fare informazione. Ripetiamo, senza censura, che è il nuovo modo di fare informazione, dal basso anche, con una nuova grammatica. Ho sentito oggi proprio che si parlava di nuova grammatica, nuovi generi, nuovi linguaggi, attraverso Senza censura, che è appunto il nostro newscast, dove vengono mandati video in presa diretta, senza commento, senza giornalista in campo, dove appunto le notizie e i fatti vengono mostrati per come sono, quindi la realtà nuda e cruda. E questo appunto è un progetto sperimentale che vogliamo portare avanti con le web tv che vorranno proporci i loro video, i loro footage, in modo tale da portare in televisione quelle news locali italiane, visto che è un circuito che abbraccia tutta la penisola, e portarla per la prima volta in televisione e vedere appunto se questo linguaggio sperimentale può funzionare a livello anche di ascolti. Questa è una cosa fondamentale proprio perché noi crediamo che il pubblico è interessato, è fortemente interessato a questo nuovo modo di fare informazione, che è un punto, un nuovo linguaggio, lo ripeto, è una sperimentazione che dà la possibilità di non scimmiottare la tv generalista, proprio perché le web tv con il loro modo di fare, nuovo, innovativo, mi rimando anche al libro di De Biase, quindi all'economia del dono, questo nuovo modo di fare informazione, mettendo in condivisione quali sono appunto le notizie che non passano sugli altri media. In questo modo Current continua a portare avanti la sua missione di news network, di informazione indipendente, anche grazie alle web tv. Voi avete già collaborato con delle realtà di web tv? Noi abbiamo fatto diversi progetti e vorrei ribadirlo abbiamo iniziato circa due anni fa mandando in onda alcuni contributi che venivano sia da Gaza, con un ragazzo che ha collaborato con Current che attualmente vive in Palestina e abbiamo fatto anche uno piccolo speciale alla senza censura, diciamo, quindi solo con immagini, mentre c'era la guerra in Georgia. Quindi abbiamo fatto due speciali da 20 minuti mostrando con i video che ci arrivavano dall'estero, quindi dalla Palestina e dalla Georgia, le vere immagini di quello che stava succedendo sia a Gaza sia in Georgia, facendo vedere come i giornalisti venivano trattati, come veniva trattata la popolazione, grazie proprio ai video che ci arrivavano dagli utenti. Naturalmente la fortuna di essere un network globale, quindi Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Sudafrica, Canada, Italia, questo network ci ha dato la possibilità di far vedere per la prima volta anche il famoso passaggio da dove passano i missili di Gaza. Quindi abbiamo fatto vedere, grazie a questo ragazzo che ci ha mandato il video, come era la situazione della guerra. Quindi abbiamo già collaborato, abbiamo già mandato in onda diversi video, ripeto, quando c'è stato sia la gay parade a Milano contro l'omofobia, piuttosto che alcune manifestazioni di Roma, grazie a Monti TV, quindi abbiamo già fatto, abbiamo mandato in onda diversi contributi che erano stati proposti sul sito e abbiamo dato anche la possibilità di far vedere le news, i fatti così come accadevano. Una cosa interessante è che tutte le web TV, tutti i progetti che mandano il loro video e noi a nostra volta li mandiamo in onda, vengono segnalati sia con il link, sia dicendo appunto chi è la web TV che ha proposto quel video. La risposta di pubblico, qual è? In che senso? Allora, il pubblico, senza censura, è uno dei nostri programmi più visti. Attualmente ci sono sei edizioni al giorno, diciamo quelle più importanti sono sicuramente quelle delle 13, delle 17, delle 20 e della mezzanotte. Quindi tutti i giorni su Current, per mezz'ora, va in onda questo newscast di informazione che viene molto apprezzato e seguito, tant'è che anche molti commentatori televisivi ne hanno già scritto sui giornali, proprio perché è totalmente nuovo rispetto al modo di fare informazione in Italia dove appunto si riportano soltanto le dichiarazioni degli uffici stampa o delle interviste programmate. Invece senza censura vuole scardinare questo modo di fare informazione. Questa mattina tra i vari post-it c'era un post-it invece del TG1, il TG delle microweb tv. Quindi voi siete già un po' il TG1 delle microweb tv. Noi vogliamo sempre di più essere, e già lo siamo, il punto di riferimento di chi ama l'informazione indipendente e quindi vuole anche contribuire, perché non dimentichiamo che Current è comunque il canale aperto alle collaborazioni di chiunque vuole, ha sfruttato anche la diffusione di internet per fare informazione, per condividere le informazioni. Quindi ricordiamoci che il progetto anche delle web tv e della collaborazione con altra tv.tv nasce proprio da questa possibilità che internet ha dato a chiunque di condividere il proprio modo di fare informazione. Quindi senza censura è sicuramente il canale, il programma, il newscast più adatto per chi vuole approcciarsi e vuole condividere, vuole fare informazione e non vuole più essere vittima passiva dell'informazione televisiva. Grazie a tutti.